Il Comitato Civico e Ambientale chiede chiarezza sull'impianto trigeneratore che avrebbe dovuto riscaldare e raffreddare gli uffici comunali ma che risulta non funzionante da molti anni, al punto che gli stessi uffici d'estate devono rimanere chiusi di pomeriggio per via del caldo. I cittadini, scrive il Presidente del Comitato Cosimo Panico, lamentano lo spreco di denaro pubblico. In un paese normale i problemi si affrontano per dare continuità agli uffici pubblici a favore dei cittadini. Per questo motivo il Comitato chiede all'amministrazione comunale di dare risposte nel merito e di fornire tutti i costi di spesa finora documentati relativi all'impianto trigeneratore.